Benissimo ragazzi, questo sarà un video velocissimo. Vediamo insieme solo l'esercizio 80 sulla funzione integrale, come qualcuno mi ha richiesto. Allora vediamo un attimo cosa vuol dire studiare una funzione integrale. Intanto, vabbè, una piccola precisazione. Ho cambiato la simbologia. Preferisco indicare la funzione integrale con la lettera F grande, F maiuscola, X. Ci chiedono il segno, la crescenza, il massimo, il minimo, il flesso, il grafico. In realtà, insomma, potremmo anche aggiungerci altre cose, tipo quanto vale la funzione nel punto zero. Incominciamo dal segno. Allora, ci si chiede quando è che la funzione integrale è maggiore di zero. Come svolgerlo? Beh, per fare questo primo punto, incomincierei a ricordare alcune proprietà dell'integrale definito. In particolare, non so se vi ricordate, ma quando avevamo calcolato l'area della funzione sottesa, dell'area sottesa ad una funzione, che cosa facevamo? Beh, noi facevamo l'integrale da AB di F di X in X. Ma questo lo facevamo se, solo se, o comunque dopo esserci accertati, che la funzione di X fosse positiva in quel tratto. Perché se, ad esempio, la funzione fosse stata negativa, questo integrale ci sarebbe venuto negativo. E quindi l'area noi avremmo messo che era meno l'integrale. Ecco, allora, ricordando quella proprietà che avevamo già discusso sull'integrale definito come aree, allora io posso dire che questo integrale è positivo se la funzione è positiva e B è maggiore di A. In questo caso, guardiamo un attimo, io ho questa funzione che è di sicuro positiva, 1 fratto radice non può che essere positiva, e in più, e però, B deve essere maggiore di A. E quando è che B è maggiore di A? Se X è maggiore di 0. Quindi, sostanzialmente, questa funzione integrale è positiva se, solo se, X è maggiore di 0. Proviamo a ragionare un attimo se X fosse minore di 0. Qua vi ho scritto un attimo. Se fosse, ad esempio, meno 2. Come risolveremo questa integrale? Qua potremmo usare un'altra proprietà. Io potrei metterci un... Cosa è che non mi piace? Non mi piace il fatto che B è più piccolo di A. Allora li scambio, scambio due estremi, ma quando vado a scambiare gli estremi di integrazione, devo metterci un meno davanti. Quindi mi diventa meno un integrale da meno 2 a 0. A questo punto, questa cosa qui, sono ancora sicura che è positiva, perché? Perché la funzione è positiva e gli estremi sono scritti nel modo giusto. E quindi per forza un meno davanti a una cosa positiva sicuramente risulterà negativa. E quindi ci siamo. La funzione è positiva solo se X è maggiore di 0. Ovviamente quest'ultima parte non serve farla, basta fare il primo ragionamento che vi ho fatto. Ecco, poi aggiungerei una cosa che qui non è chiesta, ma può esserci utile nello studio. calcolare la funzione nel punto 0. Questo è molto facile da fare, perché devo fare l'integrale da 0 a 0. L'integrale da 0 a 0 è 0. Un'ultima cosa. Per studiare questa funzione integrale, io non ho bisogno di svolgere l'integrale. Ecco, ve lo ricordo, insomma. Poi, crescenza. Per valutare la crescenza, io devo fare la derivata prima. Ecco, allora io qui devo fare la derivata prima di una funzione integrale. Qui vado ad usare il teorema di Torrici Alibarro. Vedo che qui ho semplicemente x, quindi diventerà 1 fratto la radice di 1 più x alla quarta. Eccola qui, la nostra derivata prima. E, come abbiamo detto anche prima, questa grandezza qui non può che essere positiva. Dato che la derivata prima è sempre positiva, allora posso dire che la funzione sarà sempre crescente. Quindi non ha né massimi né minimi. Per quanto riguarda la concavità, beh, per fare la concavità io devo fare la derivata seconda. Quindi devo prendere la mia derivata prima e riderivarlo. Avete tanti modi per farvi questa derivata. Potete farvi la derivata della fratta. Io personalmente l'ho fatta così. Ho scritto 1 più x alla quarta elevato alla meno un mezzo. Però, ecco, non eravamo obbligati a farlo in questo modo. C'erano altre tecniche di derivazione. Quindi, derivo, porto avanti l'esponente, riscrivo quell'altra parentesi, però, elevato alla meno un mezzo o meno uno. E poi devo ricordarmi, però, di derivare il contenuto della parentesi, perché questa è una funzione composta. E quindi per 4x al cubo. Scrivo meglio questa cosa qui. E quindi la posso scrivere come meno uno fratto due la radice di uno più x alla quarta la terza per 4x alla terza. Dobbiamo sempre valutare il segno. Quindi questa parte qui è positiva. E, vabbè, qui ci resteremo un 2. Quindi, insomma, in realtà questa cosa è positiva se meno x alla terza è maggiore di 0. Ma meno x alla terza è maggiore di 0 quando x è minore di 0. Facendo il grafichetto, è negativa qui sto trovando quando è positiva, d'accordo? È positiva per x minore di 0. Quindi qua è positiva, quindi vuol dire che per x maggiore di 0 sarà negativa. Vado a disegnare le concavità della nostra funzione e quindi scopro che la funzione integrale presenta un punto di flesso nel punto 0, 0. Ecco, a questo punto si tratta di tracciare il grafico. Il grafico è abbastanza semplice, la funzione è sempre crescente, la concavità è questa, verso l'alto e poi verso il basso, in questo punto ha un flesso. Quello che ci si potrebbe chiedere nel disegno, prima di disegnarla, che dovreste chiedervi, cosa che magari qual testo non lo suggeriva, ma insomma invece direi che è opportuno fare, è che cosa succede agli estremi di questa funzione. E cioè, questa funzione è vero che cresce sempre la concavità verso il basso, ma ci dovrebbe venire il dubbio. La funzione integrale presenta assintoti orizzontali? E la risposta è sì. Come facciamo a stabilirlo? Allora, qua noi abbiamo fatto la derivata prima, ok? Che è sempre crescente. Ora noi potremmo chiederci, ma che cosa succede, ad esempio, alla derivata prima, quando x diventa molto grande, tipo infinito? Valutiamo il limite della derivata prima, ai margini, vediamo che cosa succede. Beh, se voi a x provate a mettere infinito, vediamo, l'abbiamo, no, scusate, non l'ho riscritta, 1 più infinito fra infinito, 1 fratto infinito fa 0. Quindi, all'infinito, la derivata prima fa 0. Qui ve l'ho scritto meglio, un pochino a livello formale, il limite, rischiettendo a più infinito, della derivata prima, di 1 su infinito, viene fuori 1 su infinito, cioè 0. Ecco che allora, ricordando che la derivata prima, altro non è che il coefficiente angolare della retta tangente, sostanzialmente, nei punti infiniti, la tangente alla funzione diventa 0. E questa cosa si verifica quando la funzione diventa orizzontale, cioè quando la funzione sta andando verso l'assintoto orizzontale. eventualmente riguardatevi gli esercizi che avevamo fatto ancora diversi mesi fa per ricavare i vari, per l'analisi, insomma, dei vari grafici, da grafico della funzione a quello della sua derivata e viceversa, in cui proprio andavamo valutare la presenza, come gli assintoti orizzontali ci facevano capire com'era la derivata prima all'infinito. Ecco, bene, spero di essere stata chiara Alla prossima!